Secondo me l'Expo è proprio la possibilità di fare un'associazione, cioè dice noi qua vediamo questo cibo, raccontiamo di questo cibo, chi sono quelli che non hanno cibo, non cibo sopraffino, cibo per sopravvivere. Dunque io trovo che questo è già importantissimo, l'Expo come manifestazione per puntare gli occhi su questa situazione che non dovremmo dimenticare tutti i giorni, anche quando noi a volte abbiamo preparato molto da mangiare e magari qualcosa mettiamo via. No, ecco, dovrebbe essere accompagnarci sempre il fatto che ci sono persone che mangiano radici o animali. Per me è stato importante fare l'attore perché l'attore ha un compito, quello di consolare, di consolare, anche di denunciare. Cioè io ho voluto fare questo mestiere perché era importante per me che servisse, non che servisse a me. Va benissimo poi che uno sia bravo, per carità sia anche conosciuto. Non mi sembrano le cose principali comunque, quelle di essere conosciuti, quelle di far ridere, di fare... Così, la cosa importante mi sembra che questo soldato, diciamo così, che è l'attore, adempi queste funzioni, funzioni di denuncia ma anche di consolazione. Deve essere presente come infermiere, come... ecco, così come Dio è stato presente come grande lavoratore. Teniamo... io non credo che sia una cosa... uno dice, ma che dice di Dio? Dico che per sei giorni ha lavorato indefessamente, ha fatto quello che ha fatto, dando anche ordini naturalmente di comportamento, sia verso le bestie, sia verso le... E tutto questo serve molto oggi per vedere invece che non curanza c'è verso gli animali, che non curanza c'è verso... non voglio fare adesso un discorso ambientalista, ma insomma verso tutto quello che si sta modificando in peggio. Allora, secondo me l'attore, in questo caso io, o l'attrice, deve andare, dove è necessario, a dire quelle parole che devono ricordare, ricordare in questo modo che privilegio abbiamo ad essere qui. E se ce lo meritiamo questo privilegio, ecco. Cosa leggerà, cosa reciterà? Dunque, io reciterò prima la Genesi, l'inizio della Genesi, e per l'appunto, ecco, quella meraviglia che cominciò con la luce, con il sole, con le acque, e poi è con un Dio abbastanza giustamente autoritario e lavoratore, ribadisco, e magnifico lavoratore, ecco. E poi però leggerò la lettera di Paolo ai Corinzi dell'Apostopo Paolo e quando appunto dice, prega di avere la carità, naturalmente la carità non va intesa certo come l'emosina, né come, non so, compiacenze di dare gli abiti. La carità è vista come amore verso gli altri e non come disinteresse nessuno, che vede nessuno, tutti diaframmati nei loro isolamenti di torri d'avori. Invece di essere vicini agli altri, guardarli. Ecco, penso che guardarli, già, dico, non l'amico, lo coso, guardare anche quelli che non conosciamo, soprattutto quelli che non conosciamo. E Paolo invita a dire, e più volte dice, che una persona che è così pensa solo al profitto, alla competizione, all'invidia, può fare qualsiasi sforzo anche del bene attraverso il potere, ma se non ha la carità, carità, che secondo me va intesa così, non indifferenza, ma amore verso gli esseri umani. Grazie. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti.